L'originale della linea antiche Terre Fiorentine, appartenente alla famiglia Le Classiche, ha rivoluzionato il modo di concepire il mondo della decorazione. Da oltre dieci anni, infatti, è il punto di riferimento delle nuove tendenze del modo di rappresentare il colore nella decorazione per interni. L'originale riesce a coniugare la bellezza estetica propria del periodo rinascimentale con le esigenze del mondo contemporaneo, con una metodologia applicativa alla portata di tutti. La varietà pressoché infinita di combinazioni cromatiche realizzabili permette di dar vita ad ogni stanza grazie agli splendidi effetti ottenibili. Lasciatevi guidare dalla fantasia e arricchite la vostra casa di affascinanti nuove sensazioni. L'originale saprà stupirvi ed emozionarvi. Mediamente traspirante ed ecologica, è a base di ossidi naturali e resine di altissima qualità tecnologica in soluzione acquosa. L'originale viene proposto in latte da 1,250 litri, 2,5 litri e 10 litri. Per ottenere un risultato ottimale, applicare il fondo ATF bianco con una pennellessa, un rullo o a spruzzo con un apposito compressore. Procediamo alla preparazione dell'originale. Versare il toner scelto nella latta dell'originale, mescolando accuratamente con una spatola o con un miscelatore meccanico, fino a completa omogeneità di tinta. È possibile operare con i toner ATF con tagli da un quarto, mezzo, uno o due toner. Mediante l'utilizzo del pennello ATF Candice, stendere la decorazione lavorandola a tratti alternati e incrociati su una superficie di 1-2 metri quadrati e regolarizzarla con il pennello scarico. Dopo circa 5-10 minuti, lisciare la parete con la spatola ATF Candice per ottenere l'effetto finale. Continuare la decorazione della parete seguendo questa procedura. Ed ecco l'originale! Per maggiori informazioni o dettagli sul prodotto, richiedete i cataloghi Antiche Terre Fiorentine presso i rivenditori autorizzati Candice o visitate il nostro sito Internet.